Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 ci sono rallentamenti tra Calenzano VI Fiorentino e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna per traffico intenso. Sulla FIPILI segnalato un veicolo fermo tra Livorno Porto e Livorno Aurelia in direzione Firenze. Prestare attenzione per personale su strada per lavori tra Ponte della Est e Montopoli-Valdarno, sempre in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze chiusa una corsia per lavori tra Badesse e Siena in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia strada chiusa per lavori tra Rio Torto e San Vincenzo Sud in direzione Genova. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!